Avrei un articolo da proporti, è una cosa che piacerà molto all'Examiner. La ragazza ha cominciato a fare miracoli dopo l'apparizione della Vergine Maria. Lei è qui. Potrebbero esserci in gioco altre forze. Dove Dio ha costruito una chiesa, il diavolo costruisce anche lui una cappella. Non dubiti di lei. Il dubbio indebolisce la fede. Ave Maria piena di grazia, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Questa non è opera della Vergine Maria, questa è opera dell'Empio. Offrite le vostre armi a Maria. Santa Maria, madre di Dio. Il Signore è con te.